Allora, a 50 anni tu perdi la memoria, cioè le parole non ti vengono più, quando vuoi dire una frase c'è quello che ti stia, è vero, è vero. Allora, le devi acchiappare queste parole, anche per dire la cosa più semplice, ci puoi mettere giornate. Ieri ho incontrato cosa? Sai quella volta che siamo andati al cinema a vedere quel film, quello con la T, quel film bello, con quell'attore. Quell'attore famoso, con quell'attore famosissimo americano, quello che fa tutti i film lui, sposato con quella graziosa biondina. Va bene, non ne capisci niente di cinema.